Ciao lacustri, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo tornati assieme a Kendal e come ben sapete, per quelli che mi seguono su TikTok, ci siamo lanciati una sfida, ovvero chi trova più diamanti nel giro di un'ora. Ci siamo dati delle armature base comunque per andare a farci un giro nelle caverne, ci siamo dati dei picconi, come potete ben vedere, ora sono in creativa ma mi metto in survival, e appunto in un'ora di tempo ci sfideremo a chi ne trova di più. Chi sarà il king dei diamanti? Lo scopriremo. Fatemi sapere nei commenti chi secondo voi vincerà e molto probabilmente ci sarà poi una rivincita sul canale di Kendal in base a chi vincerà oggi. Detto questo ragazzuoli, vi lascio al video. Let's go! Quindi ci dividiamo? Io vado a destra, tu vai a sinistra? Un'ora di tempo. Ok, ok. Perfetto. Andiamo. Abbiamo già una bella cavernetta, pronta. Proviamo a fare l'MLG, come hai detto tu, non ce l'ho fatta. Neanch'io. Ottimo fail, iniziamo alla grande. Io sto iniziando a scendere un bel po', se non sbaglio devo andare tipo a meno 40. Non ti dirò nulla, non ti dirò i miei trucchetti. Tutti i segreti, i trucchi. Ok, nessuna traccia di diamante qua. Bene, iniziamo con la solita sfortuna. Vedrai che Lollo li troverà da tipo 13 secondi. Ah, è vero che poi vediamo anche l'achievement in chat. Ora, intanto io lo so che ora ti arriva. È tutto in silenzio, ma li hai già trovati, non sono sicuro. Allora, meno 11. Io non mi ricordo, ma le edizione, se non sbaglio era tipo a meno 40, meno 48. Oh, caverna gigante. Oh no, ho già trovato la lava. Aiuto. No, aia. Oh, oh, oh. No, è uno di quegli schifezzuoli che hanno il colore dei diamanti, come si chiamano? Gli chieni. Sì, quello ero quella. Un po' con i muschi strani. Pensavo fosse un diamante. Oh, ancora zero? Pure io. Oh, trovati. Un braccia. No, dai. Oh mio Dio. L'ho trovati 4. Però non mi dà l'achievement perché li ho presi con silk touch, così possiamo fare il mega pillarone poi. Senti, io inizio a scavare, va. Io spero di aver ragione. Ah, io c'ho i miei trucchetti. Probabilmente ci incontriamo in qualche caverna a caso. Oh, altri. Io adesso sfrutto i tuoi trucchetti. Bravo. Se vuoi ti ho fatto un video in cui ti spiego come trovarli. Ah, ok, ok. Possiamo utilizzare le tue tattiche contro te stessa, allora. A parte gli scherzi, qual è l'altezza migliore? Ti devo rivelare il trucco. Allora, da meno 54 a meno 59. Ah, sì? Sì. Ok, allora devo scendere giù su un altro po'. Io mi ricordavo 48. Ma in realtà ci sono da meno 10, se non sbaglio, anche sopra lo 0 ci sono quelli un po' più rari. Però l'altezza migliore è da meno 54 a meno 59. Bene, bene, bene. Oddio. Sono sotto della lava. Sono sotto ad un... Sono sotto al deep dark. Sai che anch'io mi sa? Sei tu che attivi le... Non so... Sono vicini? Sei tu che stai attivando le skulk sensor. Mi sa, mi sa, mi sa. Oh! Ero convinto di aver visto i diamanti, invece erano gli skulk. Oh! Ah, sei sopra tu. Mio Dio! Ok, allora, visto che tu hai detto di prendere le elitra, io ne approfitto e sti diamantozzoli mi ripiglio con le elitra. Ah, li hai trovati? Trovati! Oh, altri. Ma tu mi hai sentito, hai sentito l'esplosione adesso? Esplosione? Cosa che stai facendo? Ok, allora non sei qua. Allora, qua devono esserci degli altri diamanti, ma io al momento non li sto vedendo perché i miei occhi mi stanno abbandonando. Oddio, c'è sopra il deep dark proprio sopra di me. Aspetta! Ma con le elitra... Forse ti riesco a trovare... Oh, ho trovato dei diamanti nel deep dark, che fortuna. Ci sono tipo 20 creeper nel deep dark, ci sono solo creeper. No, dove sono io non c'è neanche un creeper, ma non... Oh mio Dio, ho svegliato un warden. Buona fortuna. Addio, warden, addio, è stato un piacere conoscerla. Ah, voglio vedere se riesci a entrare in un blocco di uno per uno. No, comunque non è possibile che ho trovato solo due diamanti in una caverna così grande. Eh, ma le caverne sono sopravvalutate, il miglior modo è l'uno per uno. Il miglior modo, te lo dico io, qual è? La creative. Arriviamo al verdetto finale e 56 blocchi di diamanti. Oh, come? 100 stack. Ma guarda, non so come l'ho trovato, ho avuto fortuna. Ok, altre caverne, ma nessuna traccia. Anche io un po' che non li trovo. Invece sì, erano sotto uno skulk. Wow. Che fortuna. Dio, bene, ho due di deep slate. Quindi tu usi il metodo cercarli a casa nelle caverne, sostanzialmente. Esattamente. No, no, io voglio una caverna. Una di quelle caverne giganti, belle piene. Ma non so se hai visto, io ho anche fatto una, tipo una trivella automatica che te li scava da sola. Con le mod? Oh, diamanti. Ah, qua mi stai recuperando. Ho dieci blocchi e due diamanti diamanti. Ok, e ne ho quindici. Di grezzi però. Ok, ok. Però è troppo che non li trovo. Sono all'altezza giusta, sì. Abbastanza combattuta allora, dai, pensavo peggio. No, no, combattuta, combattuta. Poi va molto anche a fortuna, perché se trovi due vene di fila da otto, trovi sedici in una botta sola. Eh, tipo io adesso ho trovato una vena bella grande, ce ne erano otto. Cambiamo strada. Mi sa che qua tocca cambiare approccio, mi sa. Eh, qua bisogna cercare le montagne, le caverne, te l'ho detto. Ma questo metodo funziona di brutto, siamo solo noi che siamo sfortunati. Di solito ne trovo molti di più. Niente, io non sto trovando nulla. Il vuoto cosmico proprio. Pure io. Infatti mi sa che toccherà cercare una caverna. Ho trovato uno. Dai, dai, che ci stai riferendo. Uno. E i sedici? Sì, sedici grezzi. Siamo pari. Ah, ottimo. Io ne ho sedici, però ho quattordici grezzi. Però, con fortuna, è un po' random. Ah, ma aspetta, c'è anche un altro trucchetto che posso usare. No, aspetta, però no, perché non si vedono? Perché non vedo i chunk? Ah, eccolo. Ok, non mi andava F3PG. Oh, caverna. Ragni, lava, sì, sì, sì. Eh, speravo di trovare qualche diamante. Oh, te! Non ci credo. Oh, no. Ho recuperato. Ero partito a bombissima. Un altro mob spawner? Due di fila? Ok, ho trovato un'altra cesta che può essere interessante. Vediamo se ha dei diamanti dentro. No, c'è solo... Oh, no, ne ho trovati altri, non ci credo. Anch'io. Bella. Dopo dieci minuti, uno dentro di una caverna. Sento dei suoni strani ed è pieno di ceste qua dentro. Vai, fammi pigliare questa cesta. Me la adoro. Ma non c'era niente. Ok, questa caverna scende giù, ma non ci sono diamanti. Sono ad altezza meno 33. Andiamo giù. No, anche a me non mi piace più sta mineshaft. L'abbandoniamo, via. Via, 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 via. Ti va. Oh, trovati! Ahialah. Le caverne, vedi che sono OP. Voilà, voilà. Siamo a 20. 20. E qua continua la caverna ozzola. Oh, li vedo. Due ne vedo. Sono uscito fuori a caso in una caverna e ce ne sono... Ah, c'è il mob spawner. Aspè. Ma non è che... No, non è lo stesso. Quanto manca la sfida? Quanto manca la sfida? 20 minuti. Ok, ne ho trovati due, sono 19. Ne ho visto un altro lì, quindi dovrei recuperarti con questo. Io ho trovato una caverna, quindi non cantare vittoria. Ah, ovviamente la caverna è totalmente vuota. Let's go. Pa, pa, pa. Uh, è una vena anche carina. Ahia no, sono caduto. Prossima volta facciamo la run per quel muschio, quei licheni attaccati alle pareti. Sai quanti l'ho trovati? Sarò 200 già. Sì, poi ti frega perché sembrano diamanti. Eh, sembrano diamanti, infatti ci resti malissimo. Ti avvicini e dici ah no. Ne ho trovato un altro in altissima, non ho mai trovato un diamante così in alto. Io ho appena rischiato la mia vita con l'elitra. Pure io. Tutta sta caverna vuota. Ma com'è possibile? Noce mi odia. Noce. Stavo cadendo nella lava. Oh, diamanti. Ah, diamanti. Sempre due, sempre due. Oh, ah no, non sono i zombie, non sono i diamanti. Oh, quello è un creeper però. Sta caverna è bellissima. Eh, anche qua si apre. Oh, diamanti l'ho visti. No, vabbè, c'era un creeper in agguato. Mi voleva far esplodere. Vai, erano tre, bella. Ma quanti sei? 25 grezzi e due diamanti. Ai, ai, ai. Ho trovato doppi diamanti, sai? E sono pure un bel po'. Siamo già a tre. Finiti? Finiti. Dove recuperare. Eh sì. Notch. E basta, questi creeper ha in agguato. Io pure intanto sto clacciando di brutto mentre racconti per prendere questi diamanti. Questi creeper, via! E sono appena uscito da un mineshaft dove c'era uno spawner e ne ho visto uno. Qua, spero che sia più di uno. Sto per fare una pazzia, Lollo. Cioè? Un pochino piccolo piccolo in mezzo alla lava. Ci voglio passare con l'elitra. Te sei un pazzo. No, non ci credo, ne ho trovati altri. Uh, ok, finalmente ne ho trovati un po'. Ci siamo, ci siamo. Ho trovato una vena da sei. Let's go. Ah, il tuo metodo funziona. Eh, ora dobbiamo vedere poi però con fortuna quanti ne escono fuori. Io sono sfortunato. Finalmente ho trovato... Uh, buona. 42. No, devo trovarne altri, dai! Non eri 41 tu? Sono a 41 più 2, sì. Eh, allora sei ancora avanti. Ah, tu dici perché poi con la fortuna ne trovo di più io. Eh, metti che ne trovi tre, 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 tre. Massacri. Io già da due diamanti ho trovato uno e uno. Eh, lì è veramente tirare testa a croce su ogni diamante. Diamanti, altri due. Io ne ho trovati uno e due. Anch'io. Ah, qua c'è una bella cavernozzola adesso. Devo esplorarla. Io sono in un mineshaft. Ok. Uh, mob spawner. Nei mineshaft di solito ne trovo un pochettino. Vediamo se nella cesta ce n'è uno. Ovviamente no. Non servono a niente le ceste di mob spawner. Cioè, sono inutili. Ma trovi le mele incantate. Sono uscito dal mineshaft e... Uh, perfetto. Quanti sono? Uno. Bleh. Ok. Mancano 30 secondi e siamo in una piccola cavernozza. Oh, appena trovati. Che fortuna. Mamma mia. Mamma mia. Il tuo metodo è assurdo, ne ho trovati troppi. 25, 24, 23, 22, 21, ti prego. Ok, ok. No, non puoi averli trovati. Li ho trovati. No, no, no. Era una vena da 6. Te quanti sei ora? 44 più 5. Dai, gli ultimi. Basta. Finito? Finito. No, ce l'avevo proprio davanti. Non ci credo. Se vuoi prendilo, per correttezza. No, no, no. Sono solo curioso, voglio vedere quanti erano. Vediamo. Uno, due. Dai, erano due, erano due. Facciamo due torri e li scaviamo con fortuna. Sì. Quindi tu quante ne hai? 51, grezzi. Mazza. No, mi distruggi. Dai, iniziamo a salire. Oh, io li sto finendo e la tua torre sarà un bel po' più grande. Finito. Arrivo. Oh no. Ok. E tre, due, uno e vai. Ok, ho avuto una sfilza di due. Io c'ho già uno stack pieno. Ok. Boom. Finito. Allora, quanti ne hai trovati? Uno stack e 36. Uno stack e 47. Non ci credo, gli unditi. Va bene, va bene. Bella combattuta. Sì, bella, bella combattuta. E questi sono poi il mio dono per te. Il king dei diamanti. Ti ho detronato. Va bene, però possiamo rifare la rivincita poi nel mio canale, eh. Va bene, va bene. Mi sembra onesto, mi sembra onesto. E vola, va bene. Ragazzi, con questo volo finale di Kendall io vi saluto. Mi raccomando, se siete rimasti fino alla fine del video, commentate con Kendall. è bellissimo e su Luis Volazza è in giro. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Ciao.